In verità ti dico, questo è il momento di cambiare, metti una pietra sopra il tuo passato, trova la tua essenza, raggiungi il convento oltre le nebbie, guarda il metodo con cui il sapere è trasmesso, tutto vive in catene d'astuzia, il monastero ti aspetta ed è giunto il tempo, lacrime di tristezza e adorazione, lacrime di tristezza e adorazione, questo è il momento di cambiare, metti una pietra sopra il tuo passato, 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 Monastery. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Monastery. Grazie a tutti. 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 Monastery. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.